In riferimento alla nota diramata dal commissario cittadino di Forza Italia Emilio Malandrino, questa è la replica del sindaco Adamo Coppola. Mi fa specie a leggere la nota del commissario cittadino di Forza Italia Emilio Malandrino, colui che pur avendo partecipato più riprese per anni alla vita amministrativa della nostra città, non ha mai lasciato un segno tangibile della sua azione e questo la dice lunga su chi oggi, e direi a ritmi regolari, sale in Cattedra pensando di dare lezioni quando dovrebbe essere lui per primo a dedicarsi a seguire approfonditi corsi di recupero per l'inconsistenza dimostrata negli anni di politica attiva. Per queste lezioni potrebbe magari iniziare a prendere spunto dall'azione di cambiamento che Agropoli ha vissuto negli ultimi 12 anni. Ma vediamo nel particolare, in primis Malandrino parla di mancata programmazione turistica, ebbene tra poche ore mi appresto ad incontrare gli operatori turistici e commerciali di Agropoli per condividere con loro una programmazione che vedrà la nostra città a teatro di una serie di eventi per tutti i fine settimana e non solo, dal mese di marzo fino all'estate ed oltre, che mira proprio a quella destagionalizzazione su cui si sta lavorando da tempo. Dal punto di vista urbanistico invece Malandrino forse non sa o è stato distratto in questi ultimi mesi, lo scorso aprile venne deliberato in giunta il nuovo PUC Piano Urbanistico Comunale e tra qualche settimana ci apprestiamo ad approvarlo anche in Consiglio Comunale, al fine di dare alla nostra città un nuovo strumento urbanistico, operazione questa che manca dal 1972. Abbiamo terminato numerose opere pubbliche, pavimentazione di piazza San Severino, seconda uscita dell'impianto sportivo Guariglia, ampliamento di via Piano delle Pere, pavimentazione di piazza Mediterraneo di prossima inaugurazione, sistemazione vicoli adiacenti a Corso Garibaldi, realizzazione svincolo tra la SP45 e via Cannetiello, scaletta di collegamento tra Aria Porto e via San Francesco, realizzazione sentiero naturalistico di Trentova, realizzazione nuove sale del castello Angioino Aragonese. Siamo prossimi a compiere l'escavo del porto turistico, finanziamento ottenuto per 2,8 milioni di euro, la ristrutturazione della scuola Scudiero di via Verga, a breve si farà la gara d'appalto per una nuova scuola che verrà realizzata ex novo in località mattine, a breve si partirà con l'adeguamento del campo pulito, si fa riferimento poi ad un efficiente controllo economico finanziario, ma non mi sembra che al di là delle chiacchiere da barre il nostro comune sia mai andato in defo o non mantenga gli impegni presi. Per la questione ospedale ci sarebbe tanto da dire, ma mi limito a ricordare allo stesso autore della missiva, in cui peraltro si chiedono le dimissioni che lui, quando rivestiva la carica di consigliere politico alla sanità di Cirielli, non mi risulta si sia dimesso quando proprio i suoi compagni di merenda chiudevano il nostro ospedale con lucchetti e catene. Si è tutti bravi a puntare il dito, ma quando era il momento di fare e di dimostrare qualcosa, Malandrino non ha mosso un dito per impedire che venisse strappato ai cittadini di Agropoli e del comprensorio il diritto alla salute che noi oggi, con le unghie e con i denti, puntiamo a riconquistare. E contrariamente a lui siamo pronti a fare squadra con chiunque abbia davvero a cuore le sorti del nostro nosocomio.